Una, un'auto vicino al stop, due, e qua abbiamo la terza auto, quarta, quinta, insomma qui ci troviamo a Garda in via Leonardo da Vinci, siamo al 4 settembre, vediamo che c'è una fila di macchine che ha occupato tutta la via qua, vedete proprio tutte queste macchine che, e tutta la via viene occupata e qua non si capisce come fanno a lasciare queste macchine una via a strada chiusa che quasi implica un'occupazione totale dello spazio della via, quindi anche un pericolo per la viabilità, e qui però vediamo che c'è la spiegazione praticamente, cari vicini il giorno 4 settembre si svolgerà in via Leonardo da Vinci un ricevimento del nostro matrimonio, il tutto avverrà secondo quanto previsto a vigente normativa in tema di contenimento del virus SARS-CoV-2, insomma praticamente qua c'è un matrimonio in corso e tutto avverrà secondo quanto detto in ottemperanza delle normative del SARS-CoV-2, effettivamente con queste macchine non passa il virus perché sono ben protette, però la viabilità qui nella zona per una festa privata sembra completamente occlusa e i controlli che siano stati fatti non si sa, comunque il nostro compito l'abbiamo fatto, ben segnalato l'ulteriore occupazione di questo spazio stradale qui a Garda in provincia di Verona senza che vi sia un criterio di parcheggio come si vede dalle macchine qui davanti che sono poste in fila indiana e nel rappresentare tutto questo meccanismo che in questi periodi di pandemia ha portato a questo ammucchiamento generale.